Sì, Sierra 58 Alfa Lim, ma col buongiorno anche per te, grazie anche per i nuovi country, 659 in Paparoma 078, 623. Tuarezzetta Italia P4 a Floridaia Comportabile. Chilo, chilo, stai c'è un chilo. Sì, la stazione Italia Kilo 2, Sierra Bravo Kilo, 659 in Paparoma 078, grazie al QSO, QRZ. Z8, Italia Z8. Francia Quebec Golf, Italia Zulu 8, Fox Quebec Golf, 659 in Paparoma 078, 73. QRZ. Italia.